e ragazzi siamo arrivati al finale di stagione di a casa tutti bene la serie perché questo lunedì appena trascorso sono andati in onda gli episodi 7 e 8 sempre diretti da gabriele muccino serie che si rifallano all'omonimo film dello stesso regista di cui vi ho parlato in tutte queste settimane che saprete che stia apprezzando tantissimo e devo dire che questi due ultimi episodi mi hanno lasciato davvero a bocca aperta mi sono piaciuti da morire deve piacere lo stile di muccino questo non mi stancherò mai di ripeterlo io il suo stile lo apprezzo sia a livello tecnico mi piace come muove la macchina da presa come la renda sinuosa come riesca quasi con un'impostazione teatrale in certi momenti a presentare ogni personaggio e da esso tirar fuori ogni sfumatura emotiva la recensione conterrà spoiler quindi nel caso non aveste visto le puntate recuperatevele su sky o su nao e poi tornate ad ascoltarmi che dire continuano a intrecciarsi queste dinamiche che ci sono state presentate fino alla scorsa settimana sembrava che riccardo attraverso l'aiuto di carlo avesse risolto no con i malavitosi avesse risolto perché è pronto carlo a pagare un assegno per far sì che questi la smettano di perseguitarli con l'appoggio poi di riccardo per il voto del resort e bla 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 fatto sta che se carlo si presenta e i malavitosi vorranno la macchina addirittura gli chiederanno la macchina quindi per un valore maggiore di 50 mila euro allo stesso tempo sembra che la faccenda sia risolta se non fosse che la moglie di riccardo la moglie di riccardo la nostra emma marrone vada a denunciare ai carabinieri e quindi il tutto si ingigantisce e molte cose proprio come questa verranno sicuramente ampliate raccontate nella seconda stagione che non vedo l'ora di vedere quindi questo è uno dei problemi relativi e importanti della puntata 7 della puntata 7 che vede anche l'inizio della preparazione nella casa all'argentario del matrimonio del nostro sandro che purtroppo con i suoi problemi d'alzheimer da molti problemi alla famiglia la scena in cui si perde andando a camminare mi ha realmente fatto tenerezza sarà che in famiglia ho avuto con le nonne molti casi di alzheimer quindi cioè entrambe le nonne con l'alzheimer però ho rivisto molto quel disorientamento che percepivo anche in persone della mia famiglia che purtroppo soffrivano di questa malattia e quindi secondo me a prea nel ruolo dello smemorato del malato di alzheimer è stato bravissimo se inizialmente sì mi restava un po indifferente il suo personaggio nel corso delle puntate è proprio esploso e quindi si fa aiutare anche dalla famiglia di nomadi che lo che lo accompagneranno dai militari mi piace che mucino mostri anche l'aiutare di queste persone molto spesso criticate anche un po per pregiudizio il luogo comune quindi mi piace la scelta che fa mucino e la scena in cui da il tagliandino no contenuto nella carta di identità sono un malato di alzheimer per emergenza chiamare questo numero il foglietto mi ha fatto realmente provare tanta tenerezza così come poi tutto si dipanerà nella puntata finale in cui questo matrimonio verrà svolto solo che lo stesso sandro inizierà a scavare proprio dove era stato seppellito il corpo dell'amante del nostro pietro si sapeva che l'aspetto crime avrebbe preso il sopravvento con i flashback del nostro paolo lo sapevamo però ecco che abbiamo la conferma che realmente la moglie di pietro insieme alla sorella di pietro seppellirono il corpo dell'amante di pietro in quanto durante una colluttazione è stata spinta picchiando la testa è morta e quindi per non andare incontro a guai con la giustizia han deciso di seppellirla e si scoprì che paolo vide il sangue quando era bambino e questa cosa lo ha sempre impressionato una volta che paolo troverà in terra il ciondolo appartenente a questa ragazza che proprio lui da bambino le avesse regalato capirà che qualcosa non vada e proprio durante il matrimonio dopo anche queste bellissime parole che hanno pronunciato gli sposi paolo andrà faccia a faccia da sua madre per capire la situazione chiamando anche carlo chiamando ovviamente silvia d'amico il tutto scoppierà scoppierà perché la faccenda verrà fuori come si gestirà abbiamo la nostra ginevra laura adriani che non crede ai suoi occhi perché le viene detto di mantenere il segreto perché bisogna proteggerla la famiglia neanche si stesse parlando di una famiglia mafiosa e quindi ovviamente lei non vuole far sì che sua figlia cresca in una famiglia del genere quindi di scappa io ho detto cosa sta per accadere la scena in cui carlo insieme a riccardo salgono sul pandino per cercare di fermarla in queste strade così pericolose su un dirupo su questo precipizio e la scena girata benissimo in cui lei finisce fuori strada e quindi si schianta al suolo fortunatamente non non arriva sul finire del precipizio però secondo me dopo una caduta del genere è morta staremo un po a vedere sarebbe poco credibile se fosse sopravvissuta però visto che non hanno mostrato niente potrebbe anche darsi che sia in fin di vita perché sappiamo che la seconda stagione sia già in lavorazione io spero possa tornare muccino dietro la macchina da presa visto che ha avuto dei ripensamenti seppur nella sua autobiografia sostenesse no dovrò trovare un altro regista però sembrerebbe che abbia cambiato idea e me lo auguro lo auspico quindi potrebbe anche un personaggio importante come lei risultare ancora vivo allo stesso tempo però fosse morta il segreto verrebbe custodito quindi vediamo un po cosa possa accadere vediamo un po fatto sta che è una scena realmente ansiogena una scena che ti lascia a bocca aperta e che fa finire la serie in maniera quasi sconvolgente quindi vediamo c'è anche questo riavvicinamento per forza maggiore tra carlo e riccardo moneta e scianna bravissimi allo stesso tempo poi la serie vuol raccontare anche gli intrecci tra paolo e il rapporto amoroso con sua cugina con i figli e così via e quello sembrerebbe essere il momento di vita più bello vissuto vissuto dal nostro paolo perché dopo tante sofferenze finalmente può essere felice ha con sé suo figlio scusatemi ho dovuto un attimo interrompere perché si sa i telefoni suonano sempre nel momento meno opportuno stavo dicendo quindi paolo sta vivendo dei momenti felici per quanto il passato lo tormenti un passato che tornerà a galla quando sandro scavando troverà lo scheletro della ragazza uccisa ai tempi e quindi come si svilupperà anche questa situazione qua dall'altro lato le vicende di sara con suo marito con un amante che non vuol sapere di perderlo io amo antonio folletto veramente bravissimo bravissima silvia d'amico ma bravissimi tutti però antonio folletto ha proprio un carisma cioè quando lo vedo interpretare questo ruolo di questa persona fragile alla fine debole che non sa avere la forza e la grinta nella vita di prendere una decisione e quindi deve destreggiarsi tra amante e moglie risultando una nullità umana alla fine una persona viscida una persona che egoisticamente cerca di andare incontro a ciò che gli convenga di più però è bravissimo antonio folletto ma lo dico dai tempi di gomorra quando nella seconda stagione interpretava o principe ecco proprio quindi che che l'amante sapendo di essere una bellissima donna sapendo di poterlo manipolare sessualmente e quindi attraverso il ricatto sessuale non gli permette di andarsene anche quando sembrava che avesse preso una decisione attraverso il suo corpo attraverso la sua bellezza sapendo di essere bella lo circuisce capisce di aver sempre presa su di lui e quindi dopo questa scena anche ben girata di sesso estremo fra i due ecco che lei decide di non tornare a napoli di restare a roma di seguire di nascosto il suo amante di presentarsi anche al san pietro ad un certo punto di andare dal figlio dal momento in cui i genitori sono al matrimonio di sandro e tutto questo per poi ricattare il nostro antonio folletto dicendo lui se non dici la verità qualla situazione deve cambiare quindi mettendogli fretta anche questa anche questa storia verrà poi ampliata nella seconda stagione in quanto se all'amante dice una cosa alla moglie continua a continua a dire io voglio farla finita con sorrento voglio tornare qua e aiutarti al ristorante quindi a quale parte dobbiamo credere di quella data persona a dottor jekyll o a mister hyde quindi è una serie che riesce a imbastire una storia sicuramente coinvolgente ricca di intrecci con lo stile mucciniano che ripeto se non piace non verrà apprezzata nemmeno a casa tutti bene televisiva però io avevo apprezzato il film quindi apprezzo anche questa versione televisiva anzi mi sta piacendo tantissimo considero realmente meravigliosa questa serie e sono curiosissimo di vedere come il tutto verrà raccontato approfondito in una seconda stagione che già ci fa desiderare e ci fa percepire quante situazioni potrebbero essere snodate in vari intrecci narrativi quante situazioni ancora accattivanti potrebbe essere regalarci e io non vedo l'ora non vedo l'ora perché sia a livello tecnico sia a livello di scrittura sia a livello interpretativo questa è veramente una grande serie che ahimè verrà criticata da molti e spesso per pregiudizio ma che io invece continuerò a sostenere perché proprio mi piace lo stile di gabriele muccino e mi ha convinto di più anche gli elapi che era l'attore che ora come ora meno mi stesse convincendo andando avanti mi ha convinto di più solo la scena in cui chiama la madre in una delle puntate scorse mi ha un po dato l'idea di essere poco realistica però è un gusto soggettivo mi stavo dimenticando di citare due scene che realmente mi hanno colpito tantissimo la prima quando sandro insieme ad emma marrone guardano in tv un sacco bello e c'è questo omaggio a carlo verdone fischiettando anche la colonna sonora strepitosa del film del nostro morricone e quindi quella scena lì per noi cinefili amanti della commedia italiana non può che essere un toccasana così come nella casa al mare muccino si autocita perché mostra ai nostri personaggi guardarsi in tv gli anni più belli quindi l'ultimo grande successo di gabriele muccino poi interrotto ahimè per colpa del covid la sua corsa in sala è stata fermata chissà quanto sarebbe ancora andato bene fatemi sapere la vostra mi raccomando sicuramente si conclude con una scena al cardiopalmo e con la bellissima canzone di giovanotti a casa tutti bene che continua a piacermi tantissimo quindi vi attendo nella sezione commenti spero che anche a voi sia piaciuta cosa vi aspettate dalla seconda stagione secondo voi ginevra è viva o è morta vediamo un po come anche se la caverà riccardo ora con questi usurai li ha denunciati emma però vedremo vedremo un caro saluto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social che potreste abbonarvi al canale perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana quindi vi abbraccio e attendiamo quanto un anno forse più per a casa tutti bene stagione 2 ciao